Allora siamo qui con i due nuovi acquisti del Stato Tennis Bassano, Stefano Napolitano e Matteo Donati. Oggi i ragazzi hanno vinto 5-1 a Barletta, com'è andata Stefano? Secondo me molto bene, mi dispiace per il match di Tommy e Gabrielli perché è riuscito a rallezzare un match abbastanza storto, ho partito un po' male, però può succedere con i tennis che c'erano male qualche palla, qualche affusca così, però per il resto gli altri mesi non sono stati tutti abbastanza buoni e adesso mi potete portare il crema per la prossima giornata e cercare di farlo. Rientravi da un infortunio, sei stato male, sei trattato due partite, com'è andata oggi? No, è stata una partita non molto facile, comunque giocare fuori col vento, ho fatto fatica ad adattarmi, però ho stato sempre lì cercando di fare le cose facili e sentendo le sensazioni buone, è andata bene. Ricordiamo che venerdì sera c'è la presentazione della squadra di Serie A1, è la festa anche degli 80 anni del tennis, invitiamo tutti i tifosi al 2 novembre la partita in casa contro Crema. Ciao ragazzi, grazie. Aspettiamo, ciao, alla prossima.